Buonan, voi trovate? Voi trovate? Voi trovate un paio per l'altro? Si, nel momento che trovate, invegare un paio per l'altro nel momento che entrava, passava l'altro per l'altro per l'altro. Si. A me trovate un'altra per l'altro per l'altro in Italia. Si. Si. Si, in quanto è più, se paga il paio il paio per l'altro, quindi? Si. Si, in quanto è più, si paga il paio per l'altro. Si, in quanto è più, se paga il paio per l'altro, ma cosa è più che il paio per l'altro? Si. Si, in quanto è più che, però, di lo tanto, il peso fuori nella curva di Giza e entrata al minimo del balastro in presso. La charla va più bene per i nostri clienti che hanno detto che il gruppo è parte del llenamento di balastro. Nostra l'antica è che io ho pieno di balastro, ma i pensionati pensano, ma se sai che termine la mia vita, ora che io ho pieno di pensione, io ho pieno di sì che io ho pieno di sì. E io ho pieno di pensione che io ho pieno di pensione, ma non è la mia famiglia che può aiutare, ma io ho pieno di pensione. E per prevenire il gruppo di pensione, per prevenire che non ci sono grandi, noi facciamo la charla per consentire, per pieno di balastro. La charla è l'encargo di chi? L'encargo di Eldriana. Signora Eldriana, avete una charla per noi grandi? Come va qui? Per cui è interessante. C'è un po' di 물어� per consentire noi, per consentire noi ci sarà difficile di consentire di una parte di una declarazione di imposte. Ora è un po' di risposta, ma è l'impressione di essere la mia cosa. E' un po' di bisogno di essere della mia vita. non è deducibile, nel momento con noi stiamo il proprio caso, con noi stiamo mantenendo il nostro caso se non saluto la gattita un po' anche, non è un gasto che non si può deduciare non è importante perché la INL non si può profetizzare il gasto non deducibile che ti è importante che la INL è un tempo per ogni anno è da 35 di mei quindi è importante per il tempo per ricevere il tempo un contesto di balastazione ho una domanda ho una domanda ora per noi mi ha ascoltato Robben è difficile per avere un papel di balastazione un grande quando ti ho faccio qui? è stata una domanda insieme a noi con il Zway Group noi vogliamo formare una plateforma per avere un po' di noi per aiutare per avere un papel di balastazione per avere un po' di noi 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.